L'Aiga, l'Associazione Italiana Giovani Avvocati, esprime solidarietà ma anche vicinanza alla dottoressa Francesca Mariano, GIP del Tribunale Penale di Lecce, la quale negli scorsi giorni è stata vittima di una grave minaccia, mediante l'invio presso la sua abitazione, di una testa mozzata di capretto. Non è la prima volta che si assiste a gravi episodi minatori che hanno come unico scopo quello di provare ad intimidire gli operatori del diritto, ha ricordato l'avvocato Carlo Follieni, presidente dell'Aiga. Di recenti, in occasione della giornata dell'avvocato in pericolo, abbiamo portato l'attenzione della politica a un intervento legislativo, per noi non più rimandabile, inerente proprio all'introduzione di un'aggravante specifica per le lesioni cagionate agli esercenti delle professioni legali. È evidente quindi che la portata di questa norma debba essere stesa a tutti gli attori del processo, affinché, come dice il presidente dell'Aiga, possano svolgere in sicurezza le proprie funzioni garantite dalla nostra Carta Costituzionale. Avvocatura e magistratura dovrebbero, infatti, dicono dall'Aiga mostrarsi solidari e unite nella ferma condanna di questi episodi, ma anche cooperare nella reciproca difesa, affinché tutti i protagonisti del giusto processo possano svolgere in sicurezza i ruoli costituzionalmente garantiti.